Siamo all'inizio di agosto, esattamente al 2 di agosto, quindi sono arrivati i dati definitivi relativamente alla stagione turistica, a questa prima parte della stagione turistica estiva, quindi giugno e luglio, per quel che riguarda il mercato dei campeggi e dell'accoglienza nel settore del turismo e libertà in Francia. E se andiamo a vedere, notiamo subito una cosa importante, ovvero che c'è stato un tracollo importante e significativo, sicuramente due anni fa con l'attentato a Nizza il 14 di luglio, il tracollo c'è stato generalizzato su tutto il turismo, perché in molti hanno preferito andare in altre nazioni. Il problema è che in altre nazioni hanno scoperto che tutto sommato non si sta male. C'è stato un tracollo, ad esempio, significativo dovuto ai turisti italiani, ma non solo loro, si parla anche di inglesi, si parla anche di tedeschi, perché? Perché ad esempio in Francia, su sempre più spiagge pubbliche, è vietato passeggiare o sostare con gli animali, c'è il cartello proprio vietato all'ingresso ai cani. Questo cosa significa? Significa che molte persone si sono recate, paura del terrorismo, si sono recate al mare in Italia e hanno scoperto, ad esempio, che in Italia si può, cioè sono pochissime le spiagge in cui è vietato e ci sono delle motivazioni. Lasciamo stare il perché dei divieti, perché? Cosa succede? Che ogni anno ci sono due o tre casi, non di più, ma veramente due o tre, in tutte le nazioni, del cane che morde il bambino in spiaggia. Allora, se la politica è fatta da persone competenti, si gestisce il problema. In Italia, ad esempio, per cani di una certa taglia sono previste determinate precauzioni. Mentre se la politica è incapace di gestire il problema, cosa fa? Mette il divieto. Ma il divieto ci dice che da quelle parti c'è un politico incapace. In questo caso parliamo di interi distretti, per quel che riguarda la Francia. Ma questo è uno dei problemi. Poi c'è stato il grandissimo pasticcio dei limiti velocità. Sapete che in Francia, la Newscamp l'ha scritto, per quel che riguarda la velocità sulle strade statali, il limite è stato ridotto di 10 km all'ora. E fin qui non sarebbe nulla di male, ma è stata pasticciata la cosa, perché per le auto sì, per i camion no, ah no ci siamo sbagliati, ah no dobbiamo rivedere. Cioè è ancora tutta una nebulosa. L'unica cosa che è certa è che sono iniziati a fioccare, a fiorire, come se fossero un bel prato fiorito a primavera, un sacco di autovelox in più. Quindi c'è confusione, problemi, normativa non molto certa, però autovelox sono subito iniziati. Quindi è uno dei problemi per cui ad esempio la presidenza Macron, visto che è stato proprio il presidente a volere questo limite, questa riduzione del limite, è ai minimi storici di popolarità. Mai un presidente della Repubblica francese è stato così basso nella Stata. Perfino Hollande, che è il suo predecessore, che era stato un disastro totale, eppure era riuscito a fare meglio di lui anche nei momenti più critici. Quindi quello che succede oggi dalla Francia è che, diciamo che in attesa delle politiche turistiche italiane, di certo i francesi stanno facendo di tutto per far sì che il loro turismo, in fatto di accoglienza campeggistica, quindi turismo in libertà, il loro turismo arrivi in Italia. Stanno veramente, si stanno sforzando, stanno facendo di tutto per far arrivare la gente in Italia. Beh, sono molto carini, devo dire. Però non dobbiamo sempre sperare che gli altri ci aiutino. Adesso vedremo le politiche perché ci dobbiamo anche dare una mano da soli.